Credo che siamo là e prima o poi ci attrezzeremo anche noi in Eutopian qui, con un minimo di regia, di sottopancia, eccetera, perché nel momento è tutto ancora abbastanza artigianale. Comunque sono il presidente di Eutopian, associazione nata a Roma nel 2019, come ormai chi ci segue sa, e stasera abbiamo l'onore, posso dire l'onore, di avere Christian Raimo, scrittore, docente intellettuale e anche assessore alla cultura del terzo municipio di Roma. Peraltro ieri ho partecipato a un incontro sul Roma organizzato da ICOM e si diceva, si parlava anche del terzo municipio, faceva notare che comunque come dimensioni parliamo di una città come Padova, se vogliamo, no? Sì, 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 siamo una città come Padova, però senza università, teatri, biblioteche, grandi mercati, mostre, musei, tutto quanto come una città come Padova, ma senza tutto quello che rende, come dire, una città, una vera città. Per chi non è romano vogliamo un attimo situarlo nel quadrante di Roma? Sì, allora, il terzo municipio, se Roma diciamo è un cerchio, quindi diciamo che è circondato a raccordo anulare, il primo e il secondo municipio è come se fosse il nocciolo di questa cipolla, di questa sfera, di questo cerchio, mentre tutti gli altri municipi sono come gli spicchi che vanno a raggera dal centro verso la periferia. Il terzo municipio è uno spicchio che va verso nord-est e che quindi, diciamo, è la parte che si situa tra la Salaria e la Nomentana, e quindi quello che va, che tende verso orte, diciamo così. Quindi, diciamo, il punto più interno è a Piazza Sempione, quartiere delle Valli, e quindi vicino Villa Ada, diciamo, in un quartiere non distantissimo da quartiere residenziali come Piazza Bologna o Parioli, mentre, diciamo, la parte più esterna arriva anche molto dopo il raccordo, praticamente in campagna, in zone, insomma, periferiche, molto periferiche, come Settebagni, Castel Giubileo o Sala, Alessandrino, quartieri che, per chi non vive a Roma, chiaramente non gli dicono nulla, ma sono essenzialmente appunto borgate o post-borgate. Sì, sì, io ho, diciamo, la fortuna di conoscerlo abbastanza bene, a meno nella parte più interna, diciamo, un po' tutta la zona, appunto, di Piazza Sempione, anche, se vogliamo, anche la zona con che loro... Scusami, scusami, perdonami, ma siamo in diretta, secondo te, perché temo... Sì, 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 tu volevi condividere l'evento... Sì, sto condividendo l'evento, ma... Guarda, ti do il link della diretta, perché sei trasmesso a breve, voi avete un leggero scarto, forse... Probabilmente c'è uno scarto di qualche secondo... No, però, noi abbiamo iniziato già da qualche minuto, quindi... Sì, sì, però, guarda, ti mando subito il link, ma peraltro... Guarda, sulla pagina, sulla nostra pagina lo si trova, ma comunque te lo... No, sulla nostra pagina lo sto, però non... Te lo giro subito anche in chat, dammi un attimo, ecco il link... Così, magari si può fare anche copia, colla... Sì, sì, è sempre, diciamo, sfalsato lì, ecco... No, qualche secondo... Qualche secondo, sì... In realtà... Ma se vuoi, io posso comunque condividerlo adesso sul... Anche, diciamo, sul mio profilo Facebook e taggo anche te. Sì, sì, va benissimo, grazie. Ok, faccio subito... Eccoci, eccoci qui... Ok... Ok, dame ancora un attimo... Siamo amici soltanto su uno solo dei tuoi profili, credo, perché l'altro... Ah, ok... Ok... Dovresti vedere, ma... Christian Raimo... Forse con Christian Raimo Raimo sei tuo amico. Sì, 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 infatti... Vabbè, adesso lo vedrò, lo vedo benissimo, dai... Ok... Ok... Dimmi, scusami... No, no, dicevo, tornando un po' a noi... Il tema della serata è la cultura della sorveglianza di cui tu ti sei occupato e continui a occuparti sotto tanti aspetti. Però questa serata è anche un po' il pretesto per poter parlare anche delle tante iniziative che tu, come assessore appunto della cultura del terzo municipio, hai portato avanti all'inizio del tuo mandato. Perché ti anticipo che noi con Eutopian, oltre a occuparci di innovazione e digitalizzazione, intendiamo fare un focus su Roma, nei prossimi... Partendo da adesso, ma insomma, con un risultato temporale che sicuramente si inoltre almeno fino al 2025, anno del giubileo, e di, insomma, dare un po' risalto a tutte le iniziative che sono... che sono appunto... vengono fatte in città e, peraltro, le tue iniziative, in particolare mi riferisco a Grande come una città, se vogliamo, come scala travalica anche... Travalica anche, insomma, no, la scala media delle iniziative fatte nei municipi romani. Sì, nel senso che io, come dice, sono arrivato, diciamo, a fare l'assessore alla cultura del terzo municipio, non avendo una precedente esperienza amministrativa, e quindi sicuramente ho imparato moltissimo in questi due anni e mezzo su che cosa vuol dire fare amministrazione a Roma, ma avevo sicuramente un'esperienza invece di che cosa vuol dire cercare di animare la cultura, insomma, milito in associazioni... faccio parte di gruppi delle case editrici, ero tra gli occupanti del valle, insomma, mille cose, diciamo, che sono state importanti a Roma in questo momento, oltre a lavorare come assessore alla cultura del terzo municipio e fare un dottorato alla sapienza, essere quindi in congetto dal mio ruolo di docente, lavoro anche come consulente per Treccani e per altre realtà editoriali. Quello che mi sta a cuore rispetto a Roma non è tanto che una città insicura, una città violenta, una città criminale, una città degradata, come spesso si racconta. In realtà a Roma è una città sempre più spenta. Io sono nato in un contesto in cui la città era veramente spenta, cioè tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, dopo la stagione, diciamo, di Nicolini, e quindi c'è stata la lunga stagione dei sindaci democristiani, che è stata una stagione terribile. Poi a un certo punto è arrivato nel 1994 il primo mandato di Rutelli e alcune cose sono cambiate lì. Ma è cambiato soprattutto perché c'è stata una lunga stagione dei centri sociali, che è stata una stagione essenzialmente per cui le persone hanno deciso di prendersi carico della vita culturale, sociale e politica dei quartieri. Ci sono state esperienze importantissime. Alcune ancora sono vive, appunto, l'esperienza della torre, l'esperienza del Forte Prenestino, che credo sia l'esperienza più importante rispetto ai centri sociali romani. Poi tutto questo, insomma, è declinato, questa capacità anche di fare politica, come si dice, alle volte dal basso. In realtà, per esempio, credo che si vuole dire fare politica all'altezza uomo, cioè interessandosi della cosa pubblica in prima persona. E questa lunga stagione di disinteresse alla scuola pubblica ha coinvolto sia le amministrazioni di centro-sinistra, appunto, Beltroni, sia la tremenda amministrazione Alemanno, sia la davvero problematica e critica tra amministrazioni di Virgina Raggi. Cioè c'è un tratto comune che le persone si sono in qualche modo ritirate all'interno. I luoghi, la piazza pubblica, nella stagione veltroniana, sono stati lasciati soprattutto a eventi, a notti bianche, a cose spot. Mentre poi da Alemanno e da Virgina Raggi in poi, in realtà la cosa pubblica è diventata quasi una bestemmia, nel senso che comunque c'è stata negli ultimi 10-15 anni un enorme contraccolpo, un backlash, per usare un termine di Susan Faludi, un contraccolpo, una reazione per cui si sta bene a casa, la legalità, basta movita, bisogna essere... hanno i comitati di quartiere che sono soprattutto comitati di proprietari di residenti, campi ROM, gated communities, e quindi lo spazio pubblico è stato praticamente eroso. Questa cosa è, come dire, il fondale, ma anche direi, come dire, l'acqua in cui navighiamo nel dibattito pubblico. Questa cosa qui, il decoro, sicurezza urbana e ordine pubblico ormai sono diventate la triade malefica con cui si discute quando si discute di politica non soltanto a Roma, ma diciamo in genere nelle città italiane e non solo, sì, certo, anzi. Quindi possiamo dire che Grande Come Una Città è nata come una iniziativa in controtendenza rispetto appunto a questo scenario abbastanza fosco che ci sta in dire. Sì, Grande Come Una Città è un'idea molto semplice, cioè io penso che ci sia un bisogno di stare in piazza, ci sia un bisogno di vedere altre persone, ci sia un bisogno di discutere, ci sia un bisogno di imparare. Cioè io penso che le persone hanno un grandissimo bisogno di formazione. Questo perché? Perché viviamo in un'epoca, viene da dire, di crisi epistemica in cui veramente facciamo difficoltà a distinguere il vero dal falso, facciamo difficoltà ad avere un'informazione di qualità, facciamo difficoltà a capire le gerarchie dell'informazione, cioè che cos'è significativo e che cos'è banale, cos'è fondamentale e che cos'è marginale. Quindi l'idea di avere una pedagogia pubblica permanente, permanente, io l'ho definita, negli spazi pubblici nel municipio. Questi spazi pubblici vogliono dire che sono le piazze, sono le scuole, ma sono tutti, perché in fondo, come dire, ogni luogo ha una parte di pubblicità, una parte di comunità. Addirittura abbiamo fatto degli incontri nelle chiese, abbiamo fatto degli incontri nei centri commerciali. Per me qualunque luogo poteva essere un luogo dove fare un incontro, una lezione. Mi faceva particolarmente piacere che questi incontri fossero, avessero anche un aspetto pedagogico, perché penso che la cultura sia anche molto pedagogia. Pedagogia non vuol dire indottrinamento, ma anzi vuol dire emancipazione essenzialmente. Questi incontri chiaramente non erano, come dire, una trasmissione verticale del sapere, ma erano incontri in cui si sviluppavano, si sono sviluppati, si sviluppano dibattiti che vanno avanti anche ore. La parte iniziale spesso dell'incontro era, come dire, un'introduzione a un tema, una prolusione su qualcosa, e poi c'era una lunga parte di dibattito, di domande. In questi incontri le persone si conoscono, si conoscono rispetto alle proprie idee. Questo credo che sia fondamentale, non si conoscono semplicemente rispetto al fatto che vivono nello stesso posto, ma si cominciano a confrontare rispetto alle proprie idee. E quindi poi il confronto, anche politico, non parte semplicemente dal fatto che, come dire, devono difendere lo stesso parcheggio insieme, ma magari vogliono cambiare la società. E quindi hanno sentito una lezione di seri anni sulla lingua e la cittadinanza nella Costituzione, e a partire da quelli da lì capiscono, per esempio, come fare una battaglia per rinnovare i programmi nella scuola, per cercare di capire che cosa vuol dire un linguaggio più chiaro all'interno della Costituzione. Questa a me interessa, cioè mi interessa che le persone in qualche modo pensino la politica come una cosa bella per cui mobilitarsi e per cui auto-organizzandosi, cioè facendolo insieme. Infatti un po' una mia curiosità, Christian, a proposito di grande come una città. Io la seguo da un po' virtualmente, e in realtà poi agli inizi ho anche seguito qualche iniziativa di persone, insomma, quando ancora si poteva. Tu hai quasi sempre, o non sempre, insomma, sei riuscito a portare nei luoghi del terzo municipio personaggi di prim'ordine, no? Senza voler restituire gerarchia, ma comunque, insomma, personaggi anche di calico internazionale. Come fai? Qual è un po' il tuo segreto? Scusate se magari questo è un aspetto, se vogliamo, un po', ecco, anche legato all'operatività delle iniziative. Ma mi chiedo, qual è il segreto, qual è la chiave che induce un po' questi personaggi a accettare così di esporsi all'interno di un contenitore che è comunque relativamente informale? Guarda, penso veramente il desiderio che le persone abbiano, hanno di occuparsi della cosa pubblica. Nel senso che, è vero, ci sono stati degli incontri incredibili, Carlo Ginzburg è venuto a fare una lezione meravigliosa sul metodo storico all'omentano, è vero che Carlo Ginzburg, come dire, è uno dei nomi più importanti tra gli intellettuali italiani, ed è vero che per una conferenza Carlo Ginzburg, come dire, in un luogo importante, anche magari per un'istituzione privata, prende un FIDA 5.000 dollari, giustamente, perché appunto è uno degli intellettuali più autorevoli. Ma Carlo Ginzburg al tempo stesso conosce il valore della pedagogia pubblica, conosce il valore di andare in un luogo come una scuola in un pomeriggio, come una scuola che sta sulla bufalotta, che è una media periferia romana, non è una periferia particolarmente complicata, però è un luogo dove appunto si possono incontrare persone che magari, ragazzi che magari non hanno la possibilità di accedere a festival culturali, consumi culturali costosi, eccetera, eccetera. Quindi l'idea di che Ginzburg vada da loro per me è fondamentale. Tommaso Montanari gli ho chiesto di venire a fare una lezione su Caravaggio in una palestra di Fidene. Per me ha senso che Caravaggio arrivi lì, ma per l'articolo 3 della Costituzione, non perché, come dire, mi piace farlo strano, perché penso che è giusto che non soltanto la domenica mattina all'auditorium, nelle lezioni di storia, a 8 euro, a 15 euro, al teatro dell'opera ci siano delle persone che possono permettersi una cultura di qualità, ma penso che nella palestra di una scuola un po' sgarrupata, ma insomma con insegnanti molto bravi come l'istituto Fidene, la borgata Fidene, dove non c'è nemmeno una libreria, una lezione di Montanari possa creare un nucleo che poi a un certo punto si mette insieme e anima quel pezzo di cittadinanza, perché poi Fidene non sono 20 persone, Fidene sono 10.000 persone, e effettivamente poi accade così, perché da quel piccolo nucleo che magari si è riuscito ad incontrare all'incontro di Tommaso Montanari, si è creata una piccola comunità che poi mette su un bibliopoint in quella scuola lì, e quindi chiaramente a me non interessa semplicemente l'esperienza, lo spot della lezione di Tommaso Montanari, ma mi interessa il fatto che poi da quell'idea che si possa fare anche lì, da quell'idea che ci sono delle persone con cui fare delle cose che corrispondono a dei desideri, poi c'è anche una progettazione, perché appunto senza progettazione non c'è politica, senza progettazione non c'è pedagogia. Ecco, è venuto. E quindi diciamo un po' al tuo impegno in questo senso, immagino che poi corrisponda una partecipazione da parte dei cittadini del terzo municipio comunque viva e anche consapevole, se vogliamo, no? Rispetto alla tua preoccupazione appunto di sviluppare questa funzione pedagogica in modo così distribuito. Anche con un effetto moltiplicatore, perché a me non interessa che le persone, i cittadini, gli abitanti, siano dei fruitori o addirittura dei consumatori. Cioè non mi interessa che, come dire, va benissimo, ci sono tantissimi luoghi dove si consuma cultura e fanno cose bellissime, dei teatri, festival, eccetera, eccetera. Ma mi piacerebbe anche che una parte di questo lavoro pubblico in realtà che cosa riuscisse a fare? Riuscisse a cercare di emancipare le persone, i cittadini, che partecipano a queste iniziative e a far sì che siano loro a organizzare, inventarsi, a proporre. Cioè io provo a mettere insieme una lezione di Freire della pedagogia degli oppressi. Cioè cercare di stimolare una capacitazione dei cittadini, delle persone che stanno lì e quindi non l'assessore che viene e fa delle cose. Ma, come dire, io butto lì. Poi chiaramente se c'è un nucleo di persone che raccoglie e che si auto-organizza, per me va benissimo. Anzi, preferisco, non è che ciò mettere il cappello dell'assessorato o di grande come una città o di cristianale, ma va bene qualunque cosa. Cioè l'importante è che a un certo punto questa cosa capisca come emancipare i desideri che ci sono insieme. Per me è grande come una città, funziona come una specie di volano, di enzima. Dall'altra parte, una delle cose che ho imparato nella cooperazione internazionale, questa è una cosa che, come dire, alle volte ripeto, è che non serve costruire pozzi, serve formare ingegneri che costruiscono i pozzi, perché quel pozzo magari a un certo punto arriverà una carestia o una giunta terrificante e quindi magari verrà abbandonato, smobilitato, lasciato marcire, eccetera, eccetera. Quegli ingegneri che si sono formati, anche se il pozzo non c'è, lo sapranno costruire. E quindi magari tra dieci anni, tra cinque anni, questa giunta in cui sto, che è una giunta molto viva e piena di iniziative, non ci sarà, ma ci saranno delle persone che hanno partecipato agli incontri di grande comunità città, gli è piaciuto, ci sono stati e quindi poi magari fanno un'altra iniziativa simile o magari giustamente più bella, più radicale, più, comunque insomma, si formano, cioè pensano che fare politica è una cosa che non soltanto appunto riguarda un pezzetto di amministratori, di addetti ai lavori, ma invece riguarda poi appunto quello che possiamo fare e quello che dobbiamo fare perché appunto l'articolo 3 della Costituzione dice è compito della Repubblica Italiana rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, quindi se è compito tocca farlo, cioè tocca che le persone a un certo punto capiscano come adoperarsi per rimuovere gli ostacoli e per me rimuovere gli ostacoli vuol dire evidentemente poter portare cultura, sapere, condivisione di conoscenza a più persone possibile nel modo gratuito e aperto. Bene, bene, io come ti dicevo ho potuto constatare poi il diviso che funziona, non sono mai stato il residente del terzo municipio però ho partecipato e ho poi appunto in questi ultimi in questi ultimi ho anche seguito un po' l'iniziativa oggi è stato oggi il gruppo di storia un meraviglioso gruppo abbiamo avuto un incontro con Barbero online anche 600 persone che ci hanno seguito insomma chiaramente Barbero è una superstar l'avremmo voluto fare dal vivo però appunto l'idea di agganciare a un gruppo di organizzatori a un territorio a persone eccetera eccetera questo per me vuol dire è molto importante posso fare una domanda provocatoria Christian Barbero ad esempio o qualche qualche altro personaggio un po' del suo calibro secondo te è venuto per grande come una città o perché ci sei tu? No guarda per fortuna è proprio questa cosa qui per esempio Barbero non l'ho chiamato io nel senso il gruppo di amare la storia questo gruppo di storia è un gruppo che appunto ormai ha fatto una ventina di incontri è vero che i primi incontri le persone magari semplicemente perché avevo dei contatti editoriali eccetera eccetera ma oggi questa proposta sia di contattare Barbero sia di organizzare l'incontro sia di condurlo sia di coinvolgere l'app tv e questa televisione di quartiere che è veramente una televisione sociale di registrare l'incontro e di insomma tutto è stato fatto dalle persone di grande conoscità oggi c'erano Eugenio Zaccheo e Bruna Soraya io ho detto se vi va se serve faccio un saluto iniziale ed è stato veramente un grazie e poco più e poi ho ascoltato come tutti gli altri ma a me va bene così cioè nel senso io sono contento non ho nessun desiderio di come dire di mettere il controllo questo si chiama appunto una chiacchiera sulla cultura della sorveglianza io sono convinto che se le cose sfuggono dal controllo funzionano se le cose invece devono essere controllate non funzionano perché appunto quelle persone lì chiaramente non si sentiranno protagoniste io sono contento se le persone che fanno questo gruppo di amare la storia sono protagoniste e se gestiscono questa comunità di appassionati di storia di storici di persone che vogliono discutere sull'uso politico della storia in un modo molto diverso magari da come lo farei io poi chiaramente appunto ci sono alcuni pregiudiziali che sono contento che rimangano e sono centrali rispetto a questa cosa qui dall'antifascismo all'antirazzismo al fatto che appunto a un certo punto chiaramente questi incontri hanno una qualità scientifica del dibattito ma queste sono cose che stanno a cuore a tutti che si costruiscono attraverso una vera dialettica democratica e facendo un passo oltre nel mondo del mondo dei social che da un lato hanno sicuramente permesso la sopravvivenza di iniziative come grande come una città però dall'altro ho ancora tutta una serie di domande no? anzi fanno sì che noi ce le poniamo queste domande dalla così dalla presa di posizione di Twitter o Facebook ad esempio immediatamente dopo i fatti di Capitol Hill no? la decisione di chiudere l'account di Trump come ponendosi come un po' garanti della sicurezza nazionale e o ad esempio la capacità che hanno le grandi piattaforme di funzionare appunto come come se vogliamo dei bacini o degli strumenti delle piattaforme appunto che offrono strumenti di sorveglianza a chi queste piattaforme le domina ma anche a chi queste piattaforme le frequenta prima di partire con la diretta si parlava si parlava appunto del fatto che ci sono ci sono testi così canonici su questo tema della sicurezza della sorveglianza però al di là dei testi in questione a me piacerebbe ecco attingere alla tua esperienza diretta di questa di questo tema sia in quanto utente evoluto diversi profili insomma per gestire la quantità di persone che ti seguono e lì così insomma molto ma sia ancora più in quanto persona che è abituata credo a decifrare un po' anche il confine tra mondo fisico e mondo virtuale una serie di domande molto complicate cerco di risponderti in maniera non così mediocre spero e diciamo l'esplosione dei social è nata in come dire che contestualmente ha due grandi fenomeni un fenomeno di crisi della politica nel mondo occidentale di crisi economica e poi di crisi della politica c'è una generazione intera che ha come dire saltato la fase dell'impegno politico e quindi ha catturato molto di quell'attivismo appunto attraverso semplicemente un attivismo di autopromozione alle volte ma nascono anche contemporaneamente alla stagione delle primavere arabe se non ci fossero stati i social twitter facebook le primavere arabe o altre manifestazioni democratiche non sarebbero avvenute allora in questo momento appunto abbiamo a che fare con un governo che dice che non usa i social ed è chiaramente insomma ormai non serve nemmeno più il libro di di Zuboff non serve questo libro qui di David Lyon sulla cultura della sorveglianza non serve le social dilemma per farci sapere o gli articoli su Cambridge Analytica per farci sapere quanto può essere come dire distopico il mondo che viene raccontato da facebook disegnato da facebook o da twitter eccetera è vero anche che io penso che tutti i luoghi possano essere riempiti di democrazia come si possono riempire di democrazia le piazze ed è la cosa che mi interessa di più riempire di democrazia e di possibilità di pubblico un centro commerciale quindi io in un centro commerciale lotterò per farci dentro una biblioteca per farci dentro uno sportello della ASL per farci dentro così se c'è un centro commerciale se non c'è cercherò di invece di un centro commerciale di metterci una grande mediateca una grande biblioteca un grande teatro pubblico è chiaro che mi interessa più che sia che ci sia quello ma se io ho un centro commerciale cercherò di invaderlo di pubblico è la stessa cosa con le piazze con i luoghi i quartieri eccetera eccetera e persino con Facebook come dire proprio perché è impossibile immaginare che sia un luogo come dire semplicemente distopico in questo momento noi stiamo parlando e stiamo parlando di questioni complesse con le persone che ci stanno sentendo non sono degli allocchi imbambolati che pedisseguamente Facebook ha indirizzato su questa pagina e capita così nel senso io quindi penso che evidentemente bisogna riabitare anche questi luoghi riabitarli in un modo qualificato da un punto di vista della democrazia e pretendere che si trasformino se poi si riesce a creare delle comunità democratiche anche luoghi più democratici più aperti sicuramente molto più molto più trasparenti io penso che ci sarà una seconda grande stagione dei social che andrà in questa direzione qui in parte la pandemia anche l'ha fatto vedere quanto se noi ci rendiamo conto di quanto le tecnologie influenzano tutte le piattaforme delle nostre vite insomma lotteremo anche perché queste piattaforme siano condivise e non proprietarie perché queste piattaforme in qualche modo ci possano essere delle scelte questo insomma e questa era la parse costruence se vogliamo ma io non voglio forzarti ovviamente una parse di estruence però ricordo che ad esempio tu qualche tuo post appunto su facebook parlavi della dello strano non so neanche come definirlo ma comunque diciamo un mondo abbastanza singolare dei gruppi facebook di quartiere poi in quel caso naturalmente facebook è semplicemente appunto una piattaforma che ti offre una sorveglianza spicciola appunto quasi quasi come commodity no si i comitati di quartiere poi appunto io mi sono un po' interessato a questa cosa c'è uno studio che ha fatto Valere Verdolini che è una persona una sociologa molto brava e poi appunto ho cercato di capire sia diciamo anche come forma di esperienza cosa voglia dire parlare le battaglie nimbi cioè notti ma in vecchia di comitati di quartiere che cercano si riuniscono intorno a istanze veramente localissime e vedo che c'è stata sempre di più una proliferazione di comitati di quartiere che però esprimono soprattutto tendenzialmente le istanze di gruppi definiti all'interno degli abitanti o dei residenti o degli attraversatori di quel la parte di quartiere cioè le istanze di persone di una certa età benestanti per la maggior parte dei casi residenti proprietari quindi in realtà il mondo che diciamo degli stakeholders viene rappresentato in maniera molto parziale dei comitati di quartiere perché i comitati di quartiere hanno un'idea dello spazio pubblico come un'idea che è un'estensione in parte del loro spazio privato ora io mi sono formato forse ce l'ho qua dietro ce l'ho qua vicino insomma io lo stavo rileggendo tra le tante cose che ho letto quando avevo 20 anni bellissima c'era un libro di Richard Sennet 25 anni un libro uscito nel 99 per Costa e Nolan che si chiama gli usi del disordine in cui chiaramente Sennet dice il declino dell'uomo pubblico cioè l'idea che in fondo la vita sociale possa viversi in dei suburbini in delle periferie in cui a un certo punto ci sono i mall i grandi centri commerciali e poi dei suburbini delle olgiate come appunto questo quartiere romano in cui c'è una sbarra di ferro e poi appunto sono soltanto condomini non ci sono le piazze le negozi le mercati nulla nel senso sono solo abitanti residenti questa cosa qui si può invertire soltanto se si capisce come nutrire il disordine il disordine penso che sia il disordine il rischio il conflitto penso che siano gli elementi qualificanti anzi gli elementi determinanti della vita urbana tutte quelle cose che appunto vengono osteggiate da chi difende la sicurezza urbana il decoro l'ordine pubblico sono la vita della città la città appunto si autoregola si autodisciplina si dà un'anima semplicemente se noi riusciamo a capire come valorizzare gli elementi positivi di questa dialettica di questo disordine e negli elementi positivi di questo disordine chiaramente ci saranno degli elementi conflittuali perché in una città appunto le persone sono molto diverse sono persone che vengono da cinque continenti diversi duecento paesi duecento nazioni diverse stratificazioni diverse persone che sono proprietarie persone che sono affittuali altrimenti noi pensiamo appunto che la il modo migliore per vivere nel duemilaventuno sono i piccoli borghi cioè mi sparo in testa cioè nel senso abbiamo una civiltà urbana pensiamo come si può declinare questa civiltà urbana non possiamo immaginare che la civiltà urbana la dobbiamo ritrasformare in una città di piccoli borghi di olgiate di posti così no cioè nel senso la città è il fatto che esci di casa un giorno capiterà che ti scipperanno speriamo che non ti facciano del male ma per altri trecentosessantaquattro giorni nell'anno andrai al museo vedrai un concetto bellissimo andrai al cinema scoprirai l'amore per una persona che viene da un altro continente che non sapevi frequenterai un club per scambisti e ti convertirai al buddismo e sarai astinente tutta la vita cioè sperimenterai la differenza enorme che esiste nella cultura urbana anche trasformandoti cioè diventando adulto come si può diventare adulti se non si sperimenta la differenza bravo bravo sono d'accordo ma secondo te quindi in questa prospettiva di Roma come global city perché poi di quello stiamo parlando una città in grado poi di competere per ricchezza dell'esperienza varietà dell'esperienza con le grandi capitali del mondo secondo te Roma ha un gap da colmare e più avanti più indietro è in linea con non so una Londra una Singapore una San Francisco Roma è indietro per tantissime cose nel senso che poi quello che ha causato la crisi è che Roma sembra un paesone ha investito tantissimo come hanno fatto molte città italiane nell'idea di vendersi ai turisti e in questa pandemia si è visto cioè tolti i turisti a Roma a un certo punto rimangono dei paesi i quartieri sono dei paesi non c'è una non c'è un'offerta culturale adeguata a quella che è la città soprattutto non c'è una possibilità di produzione culturale non soltanto di fruizione culturale dall'altra parte per fortuna Roma rispetto a altre città ha un enorme potenziale perché è quello che è ancora una città veramente molto aperta a culture diverse un po' perché appunto è al centro del Mediterraneo e quindi veramente qui passa di tutto dall'altra parte è una città in cui si può vivere ormai per nove mesi l'anno all'aperto e quindi chiaramente questo consente un mescolarsi di queste culture di cose che si possono fare anche semplicemente appunto passeggiando camminando andando in una piazza eccetera eccetera cioè persino appunto quell'attività assurda che lo struscio al corso che mi sembra una specie di pascolamento alle volte anche quello chiaramente tutto questo non è consentito e non è valorizzato da quelle che sono le dei deficit strutturali nella città per esempio il trasporto urbano cioè se io vivo a Torbella Monaca è difficile che io vada a un certo punto a passeggiare al Colosseo perché ci metto due ore arrivare al Colosseo perché non posso parcheggiare la macchina lì perché c'è la ZTL perché ci metterò quindi queste distanze enormi di un comune che è praticamente una regione non vengono compensate da quello che è il trasporto urbano la mobilità i parcheggi l'offerta culturale cioè a Torbella Monaca c'è un teatro di Torbella Monaca ma appunto ce ne dovrebbero essere sette i teatri nel mio municipio che sono 205 mila abitanti praticamente ci sono due teatrini piccoli che fanno fatica ad andare avanti c'è una sola biblioteca piccola 205 mila abitanti vuol dire appunto gli abitanti di Brescia che di biblioteche ce n'ha 15 gli abitanti di Padova che ha una università gigantesca che ha mille musei eccetera eccetera qui 205 mila abitanti c'è non c'è nulla c'è ci sono appunto c'è un grande centro commerciale quello sì infatti quando stavo in compenso c'è il classico non luogo che però tu comunque stai colonizzando sì ma pochissimo quello è stato per esempio un grande fallimento lì ho visto che c'è stato un grande fallimento nel senso che gli eventi che abbiamo fatto al centro commerciale Porta di Roma una lezione con Luca Serianni un'altra lezione con Ascano Celestini sono stati eventi che sono sono stati partecipatissimi c'erano 300 persone ma nella mondo del centro commerciale c'è un mondo in cui ogni anno entrano 14 milioni di persone dentro eventi bellissimi partecipatissimi con un palco in mezzo alla piazza pubblica con 300 persone sono niente niente quei posti lì cioè il centro commerciale Porta di Roma è un posto che per me andrebbe completamente ripensato completamente cioè l'idea che a un certo punto serva in fondo una città che è anche che sta al chiuso ambienti anche in parte più funzionali eccetera eccetera io non voglio come dire demonizzare una una trasformazione che nelle cose non è che posso pensare nori andiamo alla bottega anche se appunto io penso che i mercati le botteghe le vie i centri questo sia molto abbia molto più valore che appunto un'Ikea o un Decathlon eccetera eccetera ma insomma non sono un nostalgico né eh o una un belleitario penso che di fatto quel luogo lì potrebbe essere un luogo molto diverso cioè che io penso che almeno nei centri commerciali c'erba essere un 20% delle funzioni che siano funzioni pubbliche questa è una proposta rivoluzionaria se vogliamo un 20% delle funzioni quindi eh tu vedi un po' il il soggetto pubblico come co-gestore di questi luoghi oppure semplicemente no ma questa cosa no assolutamente io voglio che nel centro commerciale Porta di Roma ci sia uno sportello dell'Asno cioè 14 milioni di persone lì se c'è qualcuno che si sente male deve arrivare un'ambulanza e portarlo a Pertini quella persona starà male adesso c'è un presidio alla Croce Rossa se una persona deve andare a farsi una visita medica per esempio per anche visite semplici cioè che ne so la pressione una spirometria perché non ci può essere uno sportello dell'Asno lì dentro eh un per fare un certificato perché uno non può avere un certificato lì dentro i CAF per chi serve magari un permesso di soggiorno perché non può stare lì dentro cioè perché quel luogo deve essere asettico rispetto a delle funzioni sociali pubbliche normali lì c'entrano 14 milioni di persone vuol dire che lì c'entrano tutti c'entra dal la persona che vive senza un tetto all'imprenditore benestante che sta cercando semplicemente magari di andarsi aggiustare il telefonino vanno tutti al centro commerciale cioè non è che va una particolare fascia sociale ci sono delle persone che ci vivono praticamente ecco quelle persone che ci vivono che sono magari soprattutto appunto adolescenti anziani sono delle persone che hanno più bisogno dello spazio pubblico perché chiaramente hanno non hanno la dimensione dell'ufficio del lavoro eccetera eccetera e quelle persone lì chiaramente magari quei luoghi che siano un po' più loro loro vuol dire anche autonomi cioè non vuol dire semplicemente luoghi privati commerciali in cui uno magari si deve mettere a studiare per la maturità sui tavoli fuori di un walk ma magari dentro ci sarà un'aula studio che semplicemente le persone ci possono andare e vanno lì e studiano gratis poi se quell'aula studio dall'aula studio fanno una pausa e vanno al McDonald come dire non è non è la città come la vorrei io ma preferisco una cosa del genere piuttosto che studi sul tavolo del McDonald o di walk quindi il centro commerciale è come città nella città ma è già così anzi in questo momento c'è solo il centro commerciale cioè nel senso molta parte della vita sociale del nostro quartiere soprattutto quella diciamo adolescenziale o predolescenziale è completamente risucchiata dal centro commerciale i ragazzini vanno lì l'unico cinema che di fatto c'è a parte un altro dalla pandemia è chiuso è lì dentro e quindi se io vado lì dentro le famiglie vanno al centro commerciale e lasciano i figli a centri commerciali perché lì è sicuro le babysitter straniere vanno a fare la spesa allo Shan e lasciano i bambini allo Smallland dell'Ikea e poi li prendono dopo un'ora che hanno fatto la spesa e riescono così a lavorare quindi di fatto è già un luogo che assolve una serie di funzioni sociali allora che queste funzioni sociali siano almeno gratuite e che siano gestite in parte da persone qualificate che hanno un ruolo nel pubblico appunto dagli educatori ai medici agli infermieri agli amministrativi beh questo come dire renderebbe quel luogo ci sarebbe in quel luogo almeno la possibilità di una cosa pubblica sì è chiaro l'idea forse è un po' quella della mixité quindi un po' la mescolanza di funzioni diverse funzioni privata commerciale eccetera funzioni pubbliche uffici volendo appunto anche uffici a questo punto arriviamo anche forse alla funzione anche addirittura residenziale questa forse è più estrema ma ci sono persone che vivono direttamente lì il quartiere porta di roma in molti casi è una specie di appendice del centro commerciale e se se alle se le statistiche non tradiscono quello che è è la verità in realtà ci sono delle persone che passano al centro commerciale anche dieci ore al giorno anche tre volte a settimana quindi di fatto quel posto lì ha una funzione quasi domestica ora è chiaro che secondo me questa funzione quasi domestica questa fruizione eccessiva di un posto che da pensato come un centro commerciale per fare la spesa essenzialmente non come un luogo sociale vuol dire che fuori non c'è qualcosa del genere è quel posto lì un luogo comodo sicuro fresco d'estate ben areato con delle panchine comode con la possibilità di vedere gli amici senza il freddo cioè questa cosa qui evidentemente manca fuori io la trovo lì allora per me un'amministrazione dovrebbe pensare che un po' di quelle funzioni che un centro commerciale assorbe in una strana forma di parodossale supplenza beh le metta da qualche altra parte sì sì chiaro senti tu stiamo restando un attimo anzi tornando un attimo sul tema del educativo tu ne ne parlavi a proposito di grande come una città però tu sei anche insegnante a squadra adesso mi dicevi l'aspettativa per il dottorato ma comunque sei hai anche quella quella veste quel cappello posso chiederti secondo te se lo chiedevano tutti probabilmente ma come è stata la gestione della scuola durante la pandemia quindi dad e in generale appunto apertura non apertura delle scuole una domanda veramente molto complicata io sto scrivendo un lungo pezzo per slow news su questa questo tema qui e io penso che bisogna partire da un po' di dati e un po' di articolazione nel senso che in alcune scuole è andata strabene in altre è andata malissimo per alcuni cicli è andata meglio per altri è andata peggio in alcuni mesi è andata meglio in alcuni mesi è andata peggio come la scuola normalmente ci sono per informarsi per farsi un'idea bene diciamo il consiglio tre report uno l'ha messo ieri online due giorni fa anzi il neoministro quello che dovrebbe come dire diventare il neoministro dell'istruzione Patrizio Bianchi sul sito dell'Indire sempre sul sito dell'Indire si trova un report che fa il punto con 3500 domande agli insegnanti a dicembre 2020 quindi insomma con con indagini che è stata concentrata soprattutto sull'estate ma che ha preso poi in considerazione anche alcune riflessioni che sono venute dopo e poi c'è un altro sul CNR quindi questi tre report possono darci un'idea l'idea che ci sono alcune cose che abbiamo capito che funzionano meglio e che ci danno una scuola migliore ne dico due fra le tante la peer education l'educazione fra pari e la possibilità di avere una valutazione non attraverso il voto ma autovalutazione e peer peer evaluation queste cose qui hanno funzionato molto hanno funzionato molto perché funzionano molto normalmente perché invece le lezioni frontali sempre e comunque e dai dati che abbiamo sono state fatte così il 75% delle lezioni cioè una lezione tre lezioni su quattro sono lezioni frontali a scuola chiaramente hanno di grossi limiti i limiti per cui appunto i ragazzi non si sentono protagonisti non partecipano non imparano a fare cose eccetera eccetera in più con un sistema di conoscenza la smissione della conoscenza che è sempre di più a binario a unico binario cioè c'è uno che parla e uno che ascolta ora questa cosa qui funziona sempre peggio perché la scuola non è uno che parla e uno che ascolta la scuola ci sono varie persone che discutono insieme che si formano insieme e quindi l'idea che poi soltanto attraverso uno schermo o attraverso un sistema più individuale individualizzato quindi ci sia meno la classe questo diventa veramente un problema alcuni esperimenti sono stati meravigliosi io consiglio di leggere un libro di un gruppo che si chiama Circe che si chiama formare a distanza che racconta buona parte di alcune di queste pratiche molto interessanti e i libri gli studi le cose che scrive Gino Roncaglia quindi diciamo che come dire per me sono state molto utili per capire molte cose poi c'è il problema della fascia 06 questo problema qui che chiaramente è un problema diverso di liceali che non stanno davanti a uno schermo e fare la maturità perché la fascia 06 non è che può essere come dire equiparata a un'idea di scuola o di formazione liceale o diciamo da superiori da scuole superiori lì bisogna veramente ripensare la scuola attraverso una ricerca un investimento una formazione degli insegnanti questo vale per tutti i cicli scolastici ma io penso che se noi dobbiamo mettere dei soldi veramente su un progetto di paese io penso che bisogna metterli sulla formazione degli educatori della fascia 06 bene le indicazioni bibliografiche ce le segneremo insomma ne facciamo tesoro Cristiano un'ultima domanda non voglio di solito questo incontro durano 60 minuti ma so che tu hai anche una telefonata importante da fare quindi non voglio mantenerti fino alle 22 in punto per Roma ritornando poi al tema di fondo della nostra chiacchierata vero tema probabilmente è difficile formulare ricette e poi siamo anche a ridosso del rinnovo dell'amministrazione e così via se tu invece dovessi indicare qualche priorità per i prossimi cinque anni un orizzonte un po' più ampio io penso che il merito delle questioni io indicherei il metodo cioè se io dovessi dire come quali sono le priorità per la politica romana ora per le elezioni e fra cinque anni è fate politica candidatevi impegnatevi mettete su un'associazione fate volontariato in una scuola cercate di capire come dare una parte del proprio del vostro tempo alla cosa pubblica in qualunque modalità vuol dire anche magari partecipare a un consiglio di classe preoccuparsi di di un gruppo di acquisto solidale cercare di migliorare la qualità democratica di un posto pensando a tutti e non soltanto a voi stessi alla vostra famiglia al vostro condominio al vostro quartiere a tutti quali sono i diritti di tutti poi se devo pensare in questo momento quali sono le questioni che mi stanno più a cuore le questioni che mi stanno più a cuore sono le persone che in questo momento non hanno cittadinanza le persone che sono nei campi rom le persone che sono negli accampamenti informali gli ormai 20.000 senza tetto le persone che sono in prigione le persone che vivono negli sprar nei cii eccetera eccetera sono di fatto persone senza cittadinanza a Roma saranno secondo dei calcoli spannometrici almeno 40.000 ora ci sono 40.000 persone a Roma che non hanno cittadinanza che vivono in quella che Federico Buonadonna chiama la povertà la marginalità estrema assoluta assoluta cioè non è che sono persone che vivono in uno stato di disuguaglianza di disparità sociale di crisi sociale sono in una marginalità assoluta non hanno cittadinanza ecco io penso che la prima cosa da fare è dare cittadinanza a queste 40.000 come priorità come priorità assoluta dell'amministrazione o di chiunque comunque di chiunque di chiunque sia coinvolto o interessato alla gestione della cosa della cosa pubblica esattamente bene bene questo è un messaggio di grande anche completamente diverso magari da quello che da quelli che probabilmente potremmo sentire una politica una real politica no ovviamente perché c'è c'è chi Roma magari la vede come proiettata appunto magari no sui grandi competizioni internazionali però effettivamente poi il con la città che dentro di sé ha 40.000 persone quindi un'altra città di persone che che sono ecco ai margini e qualche volta anche lo sono in modo irreversibile no penso a proposito di la città di Federico Buonadonda beh lui anche nei suoi libri insomma ha parlato di riscritto casi di senza tetto o comunque una vasta anche popolazione che non ha probabilmente non tornerà più alla vita sociale come insomma nella pratica come come insomma c'è qualche misura che tu puoi suggerire da questo punto di vista perché mi rendo conto che ecco la priorità c'è ed è chiara la misura è rinunciare un pezzo di eh privilegi per i diritti di qualcun altro nel senso misure di co-housing prendere le persone che vivono senza un tetto e dire ok apriamo le case prendere le persone che non hanno i documenti e accompagnarle aiutare a fare i documenti prendere le persone che hanno perso un lavoro e cercare di capire come aiutarli eh far sì che in queste battaglie si riescano a mettere insieme le persone tra il cattolicesimo sociale il radicalismo i liberali di sinistra insomma tutte tutte quelle realtà che hanno a cuore un allargamento dei diritti di tutti e anche appunto non c'è un allargamento dei diritti per tutti senza che qualcuno rinuncia ai propri privilegi non è che i diritti si allargano e basta evidentemente i diritti sociali soprattutto sono dei diritti che sono conflittuali nel senso c'è una piazza pedonale può dire quella piazza pedonale non consentirà a chi c'è dei parcheggi privati di parcheggiarci però per me quella piazza pedonale è fondamentale bene Cristian grazie grazie di essere stato qui stasera Cristian Raimo assessore della cultura al terzo municipio di Roma capitale Cristian speriamo poi di risentirci magari già qualche mese per fare un po' il punto della della situazione grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti